Ortofoss Safety Academy è un progetto che nasce nel lontano 2008 ed è stato coniato a questa questa espressione per definire un qualcosa che si abbina alla semplice ventità e proposta di un'offerta di una collezione outdoor quindi noi non ci limitiamo, Ortofoss non si limita a proporre, a produrre, a proporre e promuovere prodotti ma produce e promuove anche il modo in cui questi prodotti sia giusto utilizzarli nel miglior modo ai fini di un approccio responsabile alla montagna, che sia estiva, che sia invernale, che sia di alto livello, medio o basico non importa è importante il modo con cui approcciamo Ortofoss Safety Academy coinvolge tutti i paesi dell'arco alpino, che si affacciano sull'arco alpino per l'Italia coinvolge, per il 2022-2023 coinvolge 6 scuole, composte in totale da 25 professioniste queste scuole vengono formate sugli aspetti aziendali, sugli aspetti di prodotto, sugli aspetti delle linee guida relative ai corsi e viene fornito un quantitativo di materiale direi esclusivo in termini di tecnicità, in termini di valore i corsi Ortofoss Safety Academy sono composti per la parte invernale dall'offerta di giornaliera in cui si sviluppano le capacità individuali, le informazioni e le capacità individuali per l'autosoccorso in valanga c'è il programma da due giorni con Noti in Rifugio, che è la migliore occasione per fare il corso giornaliero il primo giorno quindi acquisire tutte le conoscenze e le attitudini necessarie per l'autosoccorso in valanga e metterlo in pratica il giorno successivo in ambiente, con gli sci o senza gli sci, non importa abbinando l'osservazione che è la chiave fondamentale e di successo per confrontare quello che si studia rispetto a quello che si vede c'è poi la parte estiva, quindi corsi roccia, sono corsi che si slegano un pochettino dall'arampicata sportiva e mirano ad alzarsi da terra il più possibile per un approccio alla montagna, alla cima, alla via multitiro avremo di base la sicurezza e la protezione dell'arampicatore quando dovrà scalare per cui posizionamento dei fren, dei natter, le protezioni veloci e la sosta le soste sono alla base sulla sicurezza in questi Orto World Safety Academy sicuramente l'imparare le buone azioni del primo di cordata e dell'assicuratore per la mitigazione del rischio di questa cordata è imparare bene a come progredire e come fare la sicura chi si iscriverà a un corso Safety Academy e soprattutto lo frequenterà si iscriverà con un obiettivo che sarà quello di portare a casa tutta una serie di strumenti grazie a una metodologia di questi professionisti che sono in grado di trasmettere permetteranno di capire che il rischio zero non esiste, prima cosa e seconda cosa, dalle proprie azioni individuali e di gruppo dipenderà l'esposizione al rischio detto questo, una volta che abbiamo capito questo concetto abbiamo capito che ci serve informarci che ci serve affidarci le persone giuste e allenarci al fine di divertirci con maggiore sicurezza possibile